Fa spiegare Angioli Ma tu puoi dire Ma fa morire un po' Ma su YouTube La cosa mia La ricerca mia E come? Perché? Deve essere tutta la ricerca Eh beh Ma cos'hai? No, assaggiando Ora non parla più nessuno adesso Prima hai detto Guardate la fumora che cosa ha capito Ora non parla più nessuno Perché lì è l'antico L'antichese è l'antico L'assassare la colmala Casano te ne caccia Mi piace Una è l'antica No, atti un'antica Mi vanno già su Facebook Mi hanno messo le carte Le carte Le carte Le carte Le carte Ma non sono le carte Le carte Non sono le carte Ma non è le carte Che 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 le carte Voi dimenticare Voi dimenticare Voi? Voi? Ma questa te l'aveva lasciata a capo, non ha capito, ma tu te ne potevi bere altrettanti e magari non ti succedi niente, però quando era arrivata alla terza fase per dire, o alla quarta, quando è un momento di capito, non si può piacere, non si può piacere, si è cominciata a si dipende, sono stati prodotti degli anti allergenici che praticamente hanno rafforzato le difese immunitarie, e quindi per un anno è successissimo, E poi basta, non si è ripetuta, ma anche te pare con le successioni che succede, in questa fase evidentemente l'anno, No, cosa mangiare, vengono, lo sai che segna perché è nulla, lo sai, te lo dico io, viene dal francese, induiglie, che vuol dire, è inzaccata, l'hai mangiata, Non è un gravo qui,edge, che jun ever si sa più, non si sta più, è un grande tavolo, Chi è mente ti potete spettare? Totò l'ha visto la mia stessa takee? Ah, lei è già fatto, grazie, buonissima! E è bello che mi ha ripifications, quando mi hanno creato la nostra teete? Lo si sapevo, grazie. Ho i messi una Kiが, Rappare alla mia dovrete cose da me oltre? Subito. Tutto un temperop I miei ce ведьman mia che prego, tutti 2 mo, Adesso faccio! Non ho messi un bel amolo al Pendoglie, non so, e mi erava oltre a C. si è abituata ci si è abituata oi com'è belluta ma è che sono bello e basta Come si sente la cantina? Prendi Angela, prendi Angela che piazza. Prendi Angela che piazza. L'ha capito che sei l'azione naturale? Scasciata mia! Ne irerà a scala, eh? Ci irà a fare a Modena! Un genito mio ma è staccato! Vai scatare la faccia, la scatare! Con il papà, 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 con il papà. Eh, no, come va? Eh, no, come va? Eh, il papà non parete così! Ma tu sai da fare? Oh, io, adesso, sei inutato a Bocculino e hai fatto la fotografia? Oh, come va? E c'è via, c'è via la Bocculino! Come va? O i angiui, c'è via la Bocculino! C'è via che, c'è via la Bocculino e hai fatto la bocculina! Che è via la Bocculino? e la Bocculino... E' un'aria di spedido? E' un'aria di spedido? E' un'aria di spedido. E' un'aria di spedido! E' un'aria di spedido! Murat Guarda come vuoi fare Carlo, faccio un peccino riprendete, riprendete ecco così questo picco vai, guarda per i capini ehi, proprio chi era suba a fronte l'angelo, si deve andare a capire suba a fronte ha un bocco lei, totò ha un bocco Muccio, vado a fare la mosse ma qui parla di fare i fattekos come loro ballano eh, ma qui parla di fare i fattekos va li, va li! e vi pesavi tutti non si c'è un mezzo ecco dai mario vai mario vai mario vai mario facciamo un applauso a questa coppia non c'è spazio però quando aveva ballato lui ha abbracciato ma quando aveva ballato lui ma chi ne sta ballando? 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 scandalo ma chi ne sta ballando? calabrisella ha cantato lui? si e chi ne sta ballando? ecco voi la coppia di questa scena sorbole sorbole ma è la Caterina la Caterina e Francesco che fanno andare anche l'operatore vai anche l'operatore balla e in questo caso e chi sa si rinascono che fanno il mattino dopo che si rinascono penso che è il 4 il 4 è la mattina Ah, che patata! Non si può fare una rotta! Ah, volevo fare proprio un'aria! No, un'aria! Mi prende il dente! Ah, ma sono facendo troppo il muro! Mi hanno piaciuto! Ho visto? Ah! Io mi dà accendere con... Eh? E io si aggiva tutt'ora! Manu, non ti fa male, Manu! Si aggava tutt'ora! Si aggava! Si aggava tutt'ora! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! No, 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 no. e ne vanno a tenere esceci cosa si chiama nessuno? dolma dorma non lo è nessun dono che può dormire e per chi? tu non sei tu oh No, 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 no. No, 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 no. Figaro qua, Figaro là A parte mi sentire la musica Cosa bozzetta Grazie a tutti. 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 Ciao, Sartanica. Forza Calabria. Forza Calabria. Forza Calabria.